L'Università di Siena ria prebattenti al via le matricolazioni per l'anno accademico 2016-2017. Una vasta offerta formativa per quanto riguarda il campus universitario del Pionta di Arezzo, con nove corsi di laurea, sette trennali e due magistrali. Noi abbiamo due corsi, uno per lingue e per le imprese e la comunicazione interculturale, e un altro, scienze educazione e della formazione. Sono due corsi estremamente interessanti e innovativi, perché lingue, come sapete, abbiamo attivato un corso di cinese e punta a formare dei professionisti che sappiano lavorare dentro le imprese per l'internazionalizzazione dei prodotti, a cui poi peraltro fa seguito un master. Scienze per la formazione ed educazione, tutti i servizi alla persona, tutti i servizi che sono in grado di far fronte ai bisogni educativi da zero a cento anni, per cui educatori degli adulti, educatori dell'infanzia, formatori. In tre didattica abbiamo i corsi di economia e commercio e scienze bancarie, quest'anno si aggiunge il terzo anno, per cui gli studenti possono iscriversi a Siena e frequentare alcune discipline qui ad Arezzo in tre didattica. Abbiamo i tre corsi delle professioni sanitarie. Inoltre, fino a settembre, sono previsti incontri individuali con docenti dei corsi per informazioni su piani di studio e sbocchi professionali. Le iscrizioni sono online, quindi gli studenti vanno nel sito dell'Università di Siena e trovano tutte le indicazioni per iscriversi. Però noi qui ad Arezzo abbiamo aperto anche un servizio, uno sportello informazioni, che è destinato alle famiglie, agli studenti che si vogliono mettere a sedere e discutere un po' su quali sono i corsi presenti, le famiglie che vogliono altri tipi di informazioni, oppure semplicemente vogliono essere aiutate a entrare dentro la dimensione online per iscriversi. Grazie.